Da Sulmona una brutta storia di maltrattamenti in famiglia e minacce, però la Polizia di Stato ha posto fine a tutte queste violenze, arrestando un 43enne albanese. Nelle prime ore di questa mattina, personale della Polizia di Stato ha infatti eseguito la misura cautelare della custodia cautelare in carcere nei confronti di un 43enne albanese residente a Reggio Emilia, pregiudicato per reati contro la persona, responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e minaccia aggravata nei confronti della moglie e delle due figlie minorenni. La misura è stata messa dal GIP presso il Tribunale di Sulmona, su richiesta del Procuratore della Repubblica, il dottor Bellelli. La donna, il primo settembre scorso, si è presentata presso il commissariato di Sulmona, rappresentando di temere per la propria incolumità e per quella delle figlie di 13 e 14 anni, dopo anni di violenze subite dal marito. Per sfuggire a questa situazione le tre, dopo un breve soggiorno in Albania nel mese di agosto, durante il quale la donna, nel timore di essere raggiunta dal coniuge, aveva chiesto e ottenuto un provvedimento restrittivo nei suoi confronti da parte della magistratura albanese. Non erano tornate a Reggio Emilia, ma si erano rifugiate presso dei parenti della donna Sulmona. L'uomo, venuto a conoscenza di ciò, le aveva raggiunte minacciando di ucciderle con un macete, qualora non lo avessero seguito a Reggio Emilia. L'episodio avveniva alla presenza dei familiari della donna. Nei giorni successivi alla denuncia, i familiari della donna hanno riferito di aver saputo da conoscenti residenti in Albania che l'uomo si stava procurando una pistola per uccidere la moglie. Da ultimo, la sorella della donna aveva anche ricevuto sul proprio contatto WhatsApp un video inviato dal cognato, in cui lo stesso si procurava con un coltello delle incisioni su un braccio, minacciando apertamente di morte la moglie. Grazie al tempestivo intervento del personale del commissariato di Sulmona e dell'autorità giudiziaria, che in tempi rapidissimi ha emesso il provvedimento cautelare più grave, quello della custodia in carcere, si è probabilmente scongiurata l'ennesima tragedia, dal momento che questa mattina al personale della squadra mobile della questura di Raggio Emilia, che è stata delegata ad eseguire il provvedimento, ha trovato l'uomo in procinto di partire per Sulmona, con all'interno dell'autovettura, oltre ai bagagli, un grosso coltello a scatto.